A postala di festa per quello che è il locale più grande qui a Firenze, ci troviamo allo Space Club e quello che vedete qui è quello che si rispira il sabato sera allo Space Club musica latina, musica hip hop, musica delizia insomma chi viene qui allo Space di Firenze viene perché sa quello che trova quindi seguiteci e andiamo a divertirsi anche questa sera qui allo Space Club a Firenze 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E questo mistero è qui. Senti, questa sera lo space, come sta andando la serata? Da dieci. Immenso space. Ti vieni spesso? No, sinceramente no. Perché comunque sono impegnata negli studi. Diciamo che stasera è una serata un po' particolare. Sì, diciamo di sì. Sei fidanzata tu? Mi spero anche questo? C'era una storia in corso, ma... Si è conclusa ieri. Accidenti! Sei una bellissima ragazza la moda. Ti piace seguire la moda comunque? Eh beh, sai le possibilità sono un po' limitate, però va bene, uno cerca di dare il meglio. No, secondo me l'importante è mettere un po' del suo, no? Anche se non si può proprio economicamente. Sì, sì, infatti no, uno cerca di fare quello che può, insomma. Mira, ti ringrazio e buona serata allo space. Grazie a te, grazie a te. Eccomi qua, io sono con Gigi, lui è il grandissimo barman qui allo space, il barman della Martini, della Red Bull. Ecco, il più anziano, ecco. Il più bravo, il più bravo in assoluto. Sì, sicuramente sì. Prima di spiegarmi che cosa mi prepari stasera, mi fai un buonissimo cocktail, voglio sapere un po' di te. Parlami un po' della tua esperienza come barman. Sono 24 anni che faccio il barman. Negli ultimi cinque anni insegno per la Martini e la Red Bull, qui allo space, in pratica, facciamo dei corsi. Niente, ho insegnato a un po' di ragazzi, ho una buona esperienza e la trasmetto con tutto il mio amore, senza non lasciare niente dentro di me, trasmettendo tutto quello che è importante, ecco. La tua passione si sente? Si sente come mi esprimo e come mi muovo. Senti, senti, cosa ci prepari oggi? Prepariamo un cocktail che è stato presentato all'ultimo Grand Prix Bacardi, dato che qui allo space abbiamo un barman ufficiale Bacardi, scusate ancora la voce, ecco. È stato presentato e tra i 22 in finale al Grand Prix Bacardi lo facciamo ora. Allora io ti lascio l'opera, perfetto. Ti guardo, intanto. Oh, watchin' me, hangin' by a string this time. Don't easily, climax on the perfect life. Oh, watchin' me, hangin' by a string this time. Don't easily, smile worth a hundred lives. If there's lessons to be learned, I'd probably get my jammin' word. From Mexico! From Mexico! Yo sono mexicana y panameña, ciao! From Mexico to space, Jimena! Si, yo sono mexicana y yo me llamo Jimena y panameña. Ciao, amicots! Como estas, Jimena? Benissimo, space è il meggiore, Luca, è in Firenze. Il meggiore, tutto bene qui, io li amo, ti amo. Il ojo di quello è bellissimo. Grazie mille! Ah, di nada. Prego, prego. Buona serata! Che cosa? Buona serata! Si, bonissima, la meggiore. Che cosa fa qui la meggiore? Ciao, amicots! Ciao! Ciao, amicots! Ciao, amicots! Ciao, amicots! Welcome to the